Il nuovo modo di fare banca non è solo uno slogan. Per la Banca Popolare del Cassinate è un credo perché si è voluto unire in un'unica giornata l'inaugurazione di una nuova struttura, musica, divertimento e aggregazione, oltre ovviamente all'informazione sui servizi specifici dell'istituto di credito. Tutto questo caratterizza l'open day della BPC a Sora. Le porte aperte sono quelle della nuova sede della filiale in via lungo Liri Simoncelli, una struttura e una città che per il presidente formesano hanno significato molto durante gli anni della formazione. E' Sora la mia seconda patria, sono stato qui in questo convento, ho fatto la quarta e la quinta elementare, ho fatto prima e seconda media, mi sono diplomato a Sora e quindi un legame più forte di così si vuole. Dotare Sora di una sede prestigiosa della BPC come quella appena inaugurata significa anche rendere omaggio ad una città dall'alta vocazione commerciale. Sora a prescindere dal legame è una città commerciale, è una città veramente industriale perché molti devono sapere che Sora, Isola Liri, Atina erano le zone industriali dell'Italia, quando al nord industrie non ce n'erano. Una banca in particolare, una banca come quella di Cassino, sicuramente avrà fatto tutti i suoi studi approfonditi e appropriati e per investire in modo anche così egregio perché questa sede non è una sede comune, è una sede degna di nota, è una sede prestigiosa. Significa che c'è la richiesta da parte del territorio e questo è un indice positivo e poi è una banca che ha voglia di portare avanti lo sviluppo, il che significa che vuole essere per prima a portare avanti lo sviluppo e farsi seguire dagli altri. Come abbiamo sentito altri punti di apertura di credito in qualche modo su tutta la provincia, questa è una banca vicina al territorio e noi prefettura facciamo in modo che il territorio sia vicino alla banca anche con la nostra presenza e con la nostra vicinanza.